Con le di oggi di udienza, fra poco andremo a Piazza San Pietro per l'udienza consueta di Papa Francesco, ma prima Antonella? Prima vogliamo ricordare che il 5 ottobre 1938 moriva Suor Faustina Kowalska, la vedete alle mie spalle l'immagine di Gesù Misericordioso, ci spostiamo verso il centro proprio per dare il buongiorno e il bentrovato in questa nuova stagione di di buon mattino a Don Giacomo Pavanello, sacerdote di Nuovi Orizzonti e parogo di San Giuseppe Cottolengo a Roma, buongiorno. Buongiorno, bentrovato, buongiorno a voi. Accomodati Don Giacomo Allora, stiamo parlando di una santa che tutti quanti conoscono, che è entrata anche nella devozione comune ad opera di San Giovanni Paolo II, vale la pena in un minuto ritratteggiare le cose più importanti che uno non deve dimenticare di Santa Faustina Kowalska? Santa Faustina nasce in Polonia in un momento storico delicatissimo, perché siamo a cavallo della prima guerra mondiale sostanzialmente e in un periodo storico in cui si stavano preparando anche delle situazioni drammatiche per l'Europa. Dopo la sua morte si è visto i totalitarismi, le dittature che cosa hanno provocato nella nostra Europa. E arriva questa suora semplice che tra l'altro nel suo percorso vocazionale ha incontrato diverse difficoltà relativamente anche all'accoglienza nei conventi di allora. Ed è proprio all'interno di una realtà, di un ordine che mette al centro la Divina Misericordia che lei vive la sua consagrazione personale. E da quel momento in poi, chiaramente, c'è tutto un retroterra di una preparazione familiare, perché Gesù lo dice, dai frutti riconoscerete l'albero. L'albero evidentemente era buono, il percorso familiare pregresso era di grande spiritualità, lei diventa depositaria di rivelazioni private che per certi aspetti poi diventano pubbliche relativamente proprio al cuore della nostra fede, o meglio dell'identità di Dio stesso, il Dio cristiano, il Dio della Misericordia. L'Antico Testamento è pieno di indicazioni di questo tratto specifico di Dio e lei ne diventa apostola, ne diventa missionaria. Ottobre è il mese dedicato alle missioni e lei ha una missione molto speciale e particolare, quella di testimoniare al mondo la centralità dell'amore di Dio che ha un nome preciso, Misericordia. Dal venerdì santo alla prima domenica dopo Pasqua, lo spazio di una novena, ecco lì c'è il cuore della nostra fede, l'incontro con l'amore di Dio che è Misericordia, che riabilita, ricrea e rialza ogni persona, anche quella più ferita dal male. Don Giacomo, ascoltarti parlare della Divina Misericordia di fatto ci fa pensare a qualcosa di bello, qualcosa di unico, qualcosa di anche dolce, suave, un modo per avvicinarci a Dio. Va ricordato comunque per chi avesse letto i diari di Suor Faustina, per chi vede questa immagine, che dietro questa immagine però ci sono le sofferenze della croce, della morte, che Suor Faustina vive in uno con Gesù. Hai ricordato il venerdì santo, nei suoi diari vengono raccontate proprio quelle sofferenze, per arrivare a quella gioia, a quella misericordia, a quel perdono che poi abbraccia tutti. Sì, forse dobbiamo essere anche un po' realisti davanti a quello che è la vita. C'è uno di noi, penso a tante persone che ci stanno seguendo, che magari sono da anni bloccate in casa per problemi di anzianità, di malattia. Penso che ciascuno di noi ha delle liste di dolori, di sofferenze veramente molto lunghi. Il messaggio fondamentale è che qualunque cosa ci sia nella tua vita, sia come frutto di un peccato, compiuto o subito, sia come contingenze della vita per le quali chiedersi un perché a volte è perdere tanto tempo. Qualunque cosa ci sia, nel momento in cui c'è l'abbracciare, quest'amore di Dio che lui per primo ha vissuto fino in fondo, c'è per te la possibilità di vivere anche quella sofferenza con uno sguardo diverso, non restandone schiacciato. Quindi la misericordia, hai ragione quando dici che non è una roba di melenza, non è una roba che si dimentica di una parte consistente della vita, è l'esatto contrario. Abbracciare la misericordia è contemplare, è interessante che Gesù a Santa Faustina parli di adorare la sua misericordia, contemplare la sua misericordia significa guardare quanto l'amore perfetto mi ha amato al punto da vivere tutta quella sofferenza e se lui ha vissuto tutto questo, allora anche la mia sofferenza può essere vissuta con uno spirito diverso, guardando colui che ha sofferto al punto di dare la sua vita per me. E chiaramente cambia la prospettiva, non sono più solo, c'è una presenza che è la presenza divina accanto a me, anche nel dolore più grande. Quella presenza viene avvertita anche dagli ultimi, dagli ultimi della società, dalle persone che rimangono ai margini a cui spesso Papa Francesco si rivolge e la carità che scaturisce dalla divina misericordia è quello che poi sperimentate come comunità Nuovi Orizzonti quotidianamente. Guarda, uno dei più grossi danni che noi cristiani possiamo fare a questo tipo di doni che ci arrivano dal cielo è trasformarli nel devozionismo, quando la misericordia diventa solo una faccenda privata tra me e Dio, ma la misericordia diventa concreta, diventa progetto, diventa azione, diventa non sporcarsi le mani, se così non fosse, noi non rendiamo ragione di quello che Dio ha fatto. Dio non ha salvato il mondo con le parole, l'ha salvato con la sua vita, con i fatti, avvicinandosi, come dici te, agli ultimi, cercando di far sì che chiunque potesse avere accesso a questo deposito sconfinato dell'amore di Dio. La carità cristiana che non diventa operatività non è carità cristiana. Noi viviamo l'incarnazione di Dio come mistero fondamentale della nostra fede assieme a quello della redenzione e questo ci dice l'incarnazione. Se noi ci dimentichiamo della società e di quello che possiamo fare materialmente stiamo togliendo la forza rivoluzionaria della carità. Questo in realtà noi tra poco lo vivremo anche collegandoci con Dolino di Dio che ha fatto di quella piccola Casa della Misericordia Gela una carità concreta che voi fate come Nuovi Orizzonti per tutti quei ragazzi, quei giovani che in qualche modo hanno perso la vita, la via, perdonami, anche la vita a volte, è vero. Di fatto noi siamo partiti da Suor Faustina, dalla festa che oggi la Chiesa celebra di Suor Faustina e da quella coroncina, quella coroncina che tante vite ha fatto rinascere. E a un certo punto della coroncina si dice proprio io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di tuo figlio proprio per concretizzare quel messaggio perché non sia solo l'anima e la divinità ma anche il corpo e il sangue. Sì, è un abbracciare la tua vita inserendola nella vita di Gesù Cristo. Noi crediamo in un Dio che prende carne in Gesù di Nazareth, in un uomo vissuto duemila anni fa. La sua vita, la vita di quell'uomo, vero uomo e vero Dio, è quello che ha cambiato le sorti dell'universo, della nostra singola vita ma delle vite di ogni essere umano. Quando in quella preghiera noi parliamo appunto di corpo e di sangue parliamo di una storicità, una concretezza di vita che è sì un'azione che Dio ha compiuto ma che diventa anche modello per noi. Cioè il Dio non è più quello distante, quello nei cieli che sta nei cieli e noi stiamo qua giù sulla terra. È un Dio incarnato che ha vissuto e se lui ha vissuto, ma come Gesù dice vi ho dato l'esempio perché anche voi facciate come ho fatto io. Don Giacomo rimani con noi, lo rivedrete sempre al termine dell'udienza. Adesso è arrivato il tempo per collegarci con Piazza San Pietro e con Papa Francesco e poi ritorniamo noi tutti quanti e Suor Faustina. A dopo. Riprendiamo la linea dopo la conseta udienza del mercoledì. Di nuovo di buon mattino Antonella. Sì e ancora con Don Giacomo Pavanello, sacerdote di Nuovi Orizzonti, parroco di San Giuseppe Cottolengo ma anche neoparroco di Sant'Ambrogio qui a Milano. Qui a Roma qualcosa la dovevo sbagliare. Don Giacomo stiamo parlando di Divina Misericordia, stiamo parlando della festa di Suor Faustina che ricorre oggi per la Chiesa e abbiamo detto quanto la Divina Misericordia sia qualcosa che tutti quanti noi possiamo sperimentare nel quotidiano però. Sì, in uno dei messaggi che Gesù trasmette a Santa Faustina c'è proprio questa sottolineatura che tu hai dato, cioè ogni persona ha accesso a un qualcosa che Gesù stesso definisce un'abbondanza che lui non ha mai dato nella storia dell'umanità e forse proprio anche quella coroncina di cui prima parlavamo, la bellezza anche di queste preghiere che a volte vengono un po' snobbate, preghiere un po' ripetitive eccetera eccetera, in realtà hanno il vantaggio che te la puoi portare dappertutto. Non hai la necessità di costruirti un angoletto come sarebbe bene che ci fosse nella vita di ciascuno, però sappiamo i ritmi che certe volte le nostre vite hanno e questa possibilità di portarti ovunque, la semplicità di una preghiera che attenzione, la ripetitività non è sinonimo di noia, è proprio quella capacità che ha determinate preghiera di entrare dentro il tuo cuore con calma, ma del resto appunto eterna e la sua misericordia è uno dei versetti in uno dei salmi della Bibbia che ripetuti in continuo ha questa finalità, cioè entrare con calma dentro il cuore della persona fino a plasmarlo dall'interno. Chi sperimenta quotidianamente, fa sperimentare questo quotidianamente anche alla gente è un altro nostro amico Don Lino di Dio, ci colleghiamo con lui. Don Lino, buongiorno e tu, come abbiamo avuto a modo di dire anche altre volte, tu hai fatto proprio di questo messaggio della misericordia al cuore della tua vita. Buongiorno a tutti carissimi, ebbè cerchiamo di, attraverso quello che è un po' l'esempio dei nostri volontari per quello che il Signore sta conviento nella nostra città di Gela a trasmettere questa misericordia che poi può continuare l'opera di Faustina e attraverso quello che non soltanto di includere fiducia nel cuore della gente verso il Padre in questo momento così particolare che l'umanità sta attraversando, ma soprattutto attraverso quello che sono le opere di misericordia corporali e spirituali, attraverso la piccola casa della misericordia per il lavoro che quotidianamente i nostri volontari compiono attraverso l'ambulatorio, attraverso la mensa, la mediezione familiare, per tutto quello che sono appunto le opere di carità verso i nostri poveri e per coloro che bussano alla porta della nostra casa, ma soprattutto del nostro cuore, mettendo sempre al centro Gesù Caristia, quella chiesa che ogni giorno voi vedete, tutti noi ci raduniamo attorno a questo altare e il cuore, il centro della nostra casa, lì 24 ore su 24 ore viene adorato Gesù Caristia che è sorgente non soltanto di provvidenza, ma di tante grazie, di tante consolazioni che il Signore ha donato in questi anni. Noi ogni giorno ne facciamo esperienza di questa tenerezza di Dio. Don Lino, prima dicevamo questo è il mese dedicato proprio ai missionari, il mese di ottobre, tu sei missionario della misericordia, che vuol dire per te sperimentare la misericordia in prima persona, ma soprattutto portarla agli altri, farti tu testimone di quella misericordia, com'è vivere una vita così? Solo della misericordia noi possiamo parlarne soltanto se ne facciamo esperienza, cioè se noi chiamiamo il nostro peccato con nome e cognome e dunque ci possiamo inabbissare in questa misericordia e dopo che uno fa esperienza di questa tenerezza di Dio che è padre, che ama d'amore di madre, così come diceva il beato Giovanni Paolo I, allora sì puoi testimoniare al mondo la misericordia attraverso quello che è il mandato che Papa Francesco mi ha dato, così come altri missionari della misericordia. e cerchiamo attraverso la semplicità nella predicazione ma anche nel Ministero della Riconciliazione anche nel sperimentare quella tenerezza e quell'attenzione verso gli ultimi. Il Papa ancora ci ha conservato il mandato di assolvere quei cassi riservati alla sede apostolica e dunque l'esperienza che faccio io è quella di andare in giro per l'Italia e oltre dove i vescovi, i sacerdoti, i gruppi mi chiamano e dunque attraverso quello che è la predicazione, la testimonianza, attraverso quello che è la disponibilità cerchiamo di far gustare questa tenerezza del Signore. In questi anni, in questi cinque anni, anche nel tempo della pandemia il Signore mi ha dato la grazia di andare ovunque sia come missionario e testimoniare a quello che Dio sta convienendo nella mia vita e nella nostra piccola casa e così come nell'esercizio del Ministero di Esorcista che svolgo qui nella mia diocesi vedo come tante anime tribolate, tante anime attraverso quello che è la preghiera questa preghiera di intercessione che unisce l'Italia ma anche oltre alle ore 15 questa è una grande forza che veramente schiaccia la testa all'antico serpente. Don Lino, noi ti salutiamo, ti ringraziamo e ne riparleremo anche più approfonditamente magari avendoti qua prima o poi in un'altra occasione ti lasciamo a quell'operato incessante e quotidiano che poi si concretizza in quella piccola casa della Divina Misericordia. Grazie Don Lino di Dio. Grazie carissimi, pregate per me, vi prego per voi. Grazie Don Lino. Don Giacomo siamo in chiusura, ovviamente il mercoledì è dedicato al Papa quindi il tempo a nostra disposizione è finito però una battuta per vivere questa giornata e la nostra vita in segno proprio di quel Gesù confido in te. Don Lino parlava di dare il nome e cognome ai propri peccati io allargherei alle proprie sofferenze, difficoltà, limiti, fragilità chiamiamoli per nome e non consideriamoli un ostacolo alla felicità ma anzi proprio la strada attraverso cui incontrare una felicità più grande una gioia più grande è quella che scaturisce dal cuore di Dio che è un cuore innamorato di ognuno di noi e allora quando tu nella tua fragilità fai l'esperienza che sei amato perché sei, non perché hai un merito ma solo per semplicemente per quello che sei allora lì scaturisce una gioia che veramente dà la svolta non solo alla giornata ma alla vita. Don Giacomo grazie per essere stato con noi un saluto a te e alle tue due parrocchie e comprivi appunto i nuovi parrocchiani di Sant'Ambrogio grazie Noi ci fermiamo solo per un attimo dopo la pubblicità tornano i coniugi Laurenzi con degli esperimenti e poi la musica, il sociale, tantissimo altro tra pochissimo Noi ci fermiamo solo per un attimo dopo la pubblicità